In un contesto clinico ideale, forte di collaborazioni sanitarie e di alto rilievo scientifico, decolla in ottobre il nuovo corso di osteopatia per neodiplomati, tenuto dall'Istituto IEMO in Campania. Noto agli esperti per essere il primo istituto italiano autorizzato dal Ministero dell'Istruzione all'insegnamento della medicina osteopatica, l'Istituto IEMO è attivo da 20 anni presso l'ospedale San Martino di Genova. Le competenze pedagogiche acquisite sul campo hanno consentito alla storica scuola italiana di osteopatia di svolgere i propri corsi in gemellaggio europeo con il famoso Istituto Ceso di Parigi, accreditato in Francia per la migliore formazione degli osteopati. Da questa collaborazione eccellente sono derivati i requisiti nazionali unici della scuola. Ne consegue che anche per gli studenti di Pestum saranno a disposizione 5 anni e 4.800 ore di studi in osteopatia, ai migliori livelli europei e in esenzione IVA, secondo diploma francese originale ed equipollente in tutti i paesi che regolamentino l'osteopatia, corredato dal certificato descrittivo Europass, il tirocinio clinico quinquennale e la mobilità a Parigi. Un corso dedicato a un numero limitato di iscritti che consentirà di acquisire la stessa preparazione dei colleghi italiani e francesi, nota per rigore e immediata operatività. Una seria opportunità formativa per professione legittima e del sicuro avvenire, in una nuova scuola i cui alti requisiti ufficiali rappresentano migliore garanzia. Iscrizioni online alle giornate e porte aperte al sito www.iemo.info.